di sentimento Padova un album storico con 500 figurine dal 1910 al 2021 in edicola tra poco ma attenzione proprio alla formazione ostite in azione la palla al centro e c'è il vantaggio di Cisse subito Cisse porta in vantaggio la prima occasione al quarto minuto da Cisse in due nuovi acquisti bene chiamato nella debbia ecco la rivediamo l'azione grazie al nostro Roberto Gambuti vedete le finte e poi di avventura di esterno preziosismo e Cisse forse un po' i difensori del Mantua un pochino mi sembra stato preferito a Tozzo chissà che adesso è il ritorno sui tuoi scelte qua diventa il portiere tanto ancora gli asci ma vediamo la posizione regolare di asci ma vediamo se l'ultimo tocco però di attribuire il gol oggi si che piace di petto di petto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.